Quali sono i vaccini obbligatori per cani e gatti? Non esistono delle vaccinazioni obbligatorie nei nostri animali, esistono delle vaccinazioni consigliate. Nel cane è meglio vaccinare sia i cuccioli che gli adulti contro il cimurro, contro la parvovirosi, contro la leptospirosi e contro l'epatite virale che ormai è una malattia quasi estinta. Esistono dei vaccini molto completi che si chiamano heptavalenti contro sette malattie diverse e esistono anche dei vaccini contro la rabbia che sono polivalenti sia per il cane che per il gatto. Nel cane è recentemente uscito anche un vaccino che è per la leismaniosi. Per quanto riguarda il gatto, di solito si fanno delle vaccinazioni trivalenti o quadrivalenti che contengono in particolare l'herpesvirosi, la calicibrosi e la gastroenterite infettiva del gatto e a volte si può vaccinare anche per la leucemia felina. Anche nel gatto esiste la vaccinazione per la rabbia che può essere fatta in caso di espatrio e direi che questa è l'unica opportunità in cui è necessario fare il vaccino. Grazie, sono Elena Iommi, esperto veterinario di Baoboys e ci vediamo alla prossima domanda. Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.baoboys.tv potrai fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti.